Spazzolino da denti.com presenta lo spazzolino elettrico per i bambini Oral-B Brown Advanced Power 950 TX Cari genitori, lo spazzolino Brown Oral-B Kids Power è stato studiato in collaborazione con famosi esperti nel campo della medicina dentale per rimuovere efficacemente la placca dalla superficie dentale dei bambini. Questo prodotto renderà più semplice e accurato lo spazzolamento dei dentini, permettendo inoltre al bambino di divertirsi. Lo spazzolino elettrico Kids Power è accessoriato per far divertire i bambini e motivarli a lavarsi i denti. È coloratissimo e decorato con i personaggi Disney. È dotato di un sistema 2D oscillante rotante, con 5600 movimenti completi al minuto, per una pulizia profonda, ma nel totale rispetto delle gengive e dei denti delicati dei bambini. Tramite un esclusivo timer musicale che suona per un minuto, con selezione casuale di uno dei 16 motivi disponibili, aiuta i bambini a lavarsi i denti meglio e più a lungo, motivandoli a proseguire per i due minuti raccomandati dal dentista. Questo spazzolino ha il manico resistente all'acqua ed è quindi elettricamente sicuro, inoltre dispone dei ricambi sia per maschietto che per femminuccia. Ricordati che andare dal dentista non basta! Il segreto per garantirsi una salute dentale e gengivale duratura sta nelle buone abitudini di igiene orale quotidiana che si devono avere a casa. Insegna ai tuoi figli a volersi bene sin da piccoli e a utilizzare gli spazzolini elettrici.